Che cosa le è successo? Elisabeth, resisti! È vero, qualcuno le sta facendo questo. Te la farò pagare. Tristan, l'ho percepita. So da dove sta arrivando quella maledizione. Che cosa? È una gigante bambina. Se hai coraggio, scontrati con me. Io sono Tristan. Che idiota. Voi sapete cosa sta combinando quel ragazzo? Brigati e usa il contrabbacchio. Contraattacco, non il contrabbacchio. È una meraviglia. Ma che cos'è? Tu non dovresti spingerti così oltre. Ehi, tonto, stai attento. Sarò io che salverò mia madre.